E bentornati qua ragazzi sul mio canale youtube, come state? Spero bene. Prima di iniziare il gameplay vi vado a ricordare che sono in live tutti i giorni tra le lunedì, probabilmente anche qualche domenica in live su twitch. Allora, continuiamo qui dove ci siamo rimasti. Io pensavo che quest'oggi vado a cambiare trattore, perché questo trattore, vedo che comunque si è un bel trattore, però ha poca cavalleria. Sicuramente poi lo vedrete dalla copertina che trattore vado a prendere. Allora, ovviamente siamo quasi in cotto e 300 iscritti ragazzi, quindi iscrivetevi, condividete, lasciate un bel pollicione in su, condividete se vi va per l'appunto con i vostri amici, parenti e tutto quanto, come al solito. Quindi poi vado a fare la raccolta dei sassi che la metto in questo fabbricatore, che l'ho preso sempre in live su twitch per l'appunto. Allora, oggi finiamo questo di fare tutto. Peccato che questo trattore non ha una buona cavalleria. Comunque sto notando che ogni tanto dà qualche micro scatto, però vabbè, penso che dopo nella fluidità, nel rendering della mappa Italia, non si vedrà questo micro lag. Allora, sì, per l'appunto oggi facciamo questo cambio di trattore, perché comunque non ha abbastanza cavalli, anche se quasi quasi magari lo teniamo. Vediamo se, boh, penso di fare un cambio eco con quello piccolo che abbiamo in farm, oppure vendere questo, anche se mi dispiace perché è comunque un trattore italiano. Purtroppo però non va più dei 60 km orari, cioè dei 6 km orari quando si ara. Eppure l'ho potenziato al massimo, però vabbè, alla fine non è un problema. Ovviamente dietro le quinte non ho fatto un gran che, magari vi lascerò giù nel box, oppure sopra in alto, nel box informativo, per l'appunto l'ultimo gameplay di questa mappa, perché comunque ho visto che comunque un po' mi piace anche la mappa Italia, anche se vi piace anche la fansbron, quindi ho detto faccio un po' e un po', faccio un giorno, tipo un tre giornino, un giorno sì o viceversa. Comunque dipende anche in base agli impegni. Allora, direi che finiamo questo campo oggi, poi successivamente raccogliamo i sassi, che saluto il mitico DJ Sassi, nonché il mio moderatore di Twitch, e tutti i miei moderatori, che danno la forza per moderare la chat, ovviamente. Quindi un salutone anche a loro, che mi aiutano sempre a moderare la chat. Ok, ho anche qui la veicola contro la donna, così mi dà una mano anche ad andare dritto, perché sapete che io per andare dritto ci metto un'eternità, però qui adesso la veicola contro la donna non mi serve. Io qui volevo fare le cose realistiche, però ho visto che comunque non vi piace tanto la realisticità della, questa mappa, insomma, quindi faccio un po' come viene e viene, insomma, un po' improvvisato, un po' un po' no, cioè vediamo un attimo, insomma, ovviamente sì, cerco di fare per l'appunto le cose realistiche, vediamo in prima persona, quando che vado in prima persona è sceso di FPS di brutto, vabbè, amen. Intanto ci do una svapata. Ok ragazzi, direi che faccio un piccolo taglio, se no oggi non vediamo il trattore nuovo che ci prendiamo, quindi ci vediamo tra poco, quindi ci vediamo appena ho finito il campo ragazzi, quindi a tra poco. Tornati, adesso vi faccio vedere, anzi andiamo ad acquistare insieme il trattore a quello nuovo che vorrei prendere, comunque non so, la sedia mi sa che sta a far rip prima del dovuto, quindi rip sedia, hashtag rip sedia e niente. Allora, finiamo questo pezzettino che pare un peccato lasciarlo, eh sì, perché comunque sto notando che questo trattore ce la fa, ma tutto sommato ce la fa veramente, veramente poco. Però è un peccato perché comunque è un brand italiano, mi dispiace anche vendono, magari lo compriamo più avanti quando oppure lo teniamo, ci facciamo un debito, vediamo un attimo. Adesso vedo, dipende anche quanto costa il trattore che vorrei prendere. Allora, intanto ci faccio anche una svapata che pare bello, che pare bello, no non è bello, però voi non fumate ragazzi. Da qua ci ho lasciato un pezzettino, visto che ci sono, ci faccio anche questo pezzettino. Ovviamente questa mappa Italia ragazzi è solo per pc, ho visto che nella statistica di youtube ragazzi il 99% non è iscritto al mio canale. Male, male ragazzi, iscrivetevi se vi va ovviamente, non è obbligo, è assolutamente, non vi è obbligo. Però ho visto che comunque le statistiche di youtube, insomma non siete iscritti e questo un po' mi dispiace perché comunque vorrei arrivare ai 300 iscritti che per l'appunto ci sarà, vi ricordo che ci sarà lo specialone che magari apparirà il banner qui in basso sotto il trattore probabilmente. Ok, scarichiamo, stacchiamo anzi in mezzo, andiamo a vedere il trattore, quello che vorrei prendermi, penso che sta in trattori medi. Vorrei prendermi questo qui, però costa veramente tanto, quindi mi sa che questo qua da 80.000 euro che abbiamo preso noi ce lo vendiamo perché non ce la facciamo con i soldi. Di usato ci sarebbe anche il Kubota, che anche quello non ce la facciamo con i soldi, quindi va bene. Vediamo se per caso è la stagione giusta per la semina dell'uva, perché se così fosse, perché abbiamo anche un debito di 330.000 euro, quindi farei un po' di uva, magari vediamo se per l'appunto è la stagione dell'uva, andiamo a vedere. Allora, sarebbe la stagione dell'olive, invece l'uva è già passata, però dobbiamo raccogliere i sassi. Quindi, per quest'oggi, niente trattore, magari nel gameplay di domani ci mettiamo l'uva, che dite ragazzi? Perché ho messo una mod che non ci fa pagare, diciamo così, l'uva quando posizionate. Cioè, quando posizionate l'uva, le stagionate, queste robe, c'è questa tipologia di mod che non ci fa pagare nulla, insomma. Quindi, nulla, volevo magari noleggiarlo quel trattore, così almeno un acquisto di oggi lo facciamo a noleggio, lo prendiamo a noleggio, così pare anche realistico, che almeno prendiamo due robe a noleggio, perché non abbiamo tanti soldi, purtroppo, purtroppo non abbiamo tanti soldi. Allora, raccogli i sassi, questo è anche per console ragazzi, quindi nulleggia. Ok, uno l'abbiamo nulleggiato e prendiamo un trattore medio. Trattore medio, trattore medio, trattore medio, trattore medio, 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 medio. Oppure, ci prenderei anche Fiatagri, ragazzi, che costa poco, che costa poco e quasi quasi ce lo prendiamo. Designer, silvicoltura, pistone idraulico, standard, mappa anni 90, lampeggianti sì, aggancio frontale non mi interessa, pto facciamo così, filtro corto, targa va bene, ok, direi che lo compriamo, compra, non ho soldi, non ho soldi, quindi piccolo debito ragazzi, piccolo debito, chiedi, 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 40.000 euro, così ce ne resta anche un po' da parte, probabilmente, lo vedete anche nello screenshot, questo trattore, perché comunque qua ho una valanga di trattori, veramente ne ho un botto, allora, abbiamo detto peso, ci mettiamo il peso, ok, ruote XL, oppure, facciamo, facciamo, facciamo XL, dov'è, eccola qua, big XL, silvicoltura nulla, mappa anni 90, lampeggiante doppio, ok, grande Peppe che ha fatto questa mod, compra, compra e compra, perfetto, questa ce la dovete fare, ah, siamo con 11 euro, ma, meno 11 euro, ma va bene, ce la faremo, ce la faremo ad uscire? sì, dai, ce la fa, ce la fa, allora, adesso io ci faccio uno screenshot, allora, tacca il cousin, allora, ve lo metto qui sul campo, così ci faccio uno screenshot, un bel screenshot, abbassiamo anche quello dietro, ok, allora, f12, togli add, sapete che io faccio le cose in diretta, allora, facciamolo anche, facciamolo anche così, vediamo cosa riesco a fare, ok, perfetto, riattivo gli add, ci abbiamo meno 11 euro, però, vabbè, alla fine abbiamo solo una cosa a noleggio, perfetto, ve lo faccio anche vedere dall'esterno e dall'interno, comunque ce la fa la grande, sto, sto trattore, ammazza, perfetto, abbiamo fatto un bello acquisto, raga, un po' lagga, scusate, raga, ma, vedrò di risolvere, ok, però, comunque, abbiamo un signor trattore, e va anche abbastanza veloce, 17 km orari è meglio di quell'altro, meglio di quell'altro, sicuramente, eh, scusate se mi partono le screenshot, ma quando faccio pagina su, mi partono le screenshot, ma, devo ancora cambiare il tasto, fate voi, ok, raccogliamo tutti sti sassi, mitico DJ Sassi che saluto, purtroppo voi sentirete i tasti della tastiera, ma cerco di mutarmi, così non sentite assolutamente nulla, ok, 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 vi ho fatto vedere anche il trattore dall'esterno, dall'interno, nei dettagli, così adesso ci concentriamo veramente sulla raccolta dei sassi, mi raccomando, condividete se vi va, iscrivetevi per l'appunto, quindi vi farebbe un sacco di piacere se vi iscrivete, perché vi ricordo che se arriviamo a 300 iscritti, speciale, speciale su YouTube, spoiler, se arriviamo a 1000 live su YouTube, spoiler, probabilmente vi apparirà anche sotto il trattore, il bannerino con scritto spoiler, bla bla bla, comunque fa un bel sound sto Fiat, molto, molto patatino, visto che siamo sulla mappa Italia, ragazzi, direi che facciamo tutto brand italiano, quindi assolutamente ci sta, assolutamente, e nulla, scarichiamo il tutto poi nella, nella, nella fabbricotta, la quella giù in fondo, così almeno, ci fa la calce viva per la prossima volta, così almeno siamo pronto, anche se abbiamo meno 11 euro, però, mandando avanti il tempo, magari qualcosa la riusciamo a raccumulare, non posso neanche mettere l'operaio nulla, perché mi tocca farlo io questo terreno, perché abbiamo meno 11 euro, però vabbè, raga, è così, quando si fanno gli acquisti è così, è brutto anche citare, ma ho già messo una turbina eolica che almeno ci da un'entrata extra, così siamo a buon punto, ok, adesso riandiamo avanti, scusate ancora per il lag, ma cerco poi nella fluidità di, il metodo fluido, non so perché questi aggiornamenti di farming, sistemano una cosa e ne peggiorano un'altra, ma vabbè, alla fine è così, ah raga, non so se hanno aggiornato la mappa di Edo, ma in caso fatemi sapere giù nei comment, se hanno aggiornato la mappa Edo, perché se l'hanno aggiornata la devo scaricare eh, e non vorrei perdere tutto, ma dubito, ok, togliamo la veicola contro la donna che non ci serve, comunque fa anche un bel sound, mi dispiace che sentite i suoni della tastiera, ma tra un po' mi metto le cuffie normali e il microfono lo disattivo, penso, vediamo, speriamo, perché comunque c'è ancora caldo ragazzi, da me si ha rinfrescato, ma di giorno c'è ancora caldo, perché io registro il pomeriggio, tipo adesso sono le 13, e quindi insomma, quindi è così, ah buon inizio scuola ragazzi, buon inizio scuola, e devo abbassare un po' il mio microfono, ho visto l'OBS, vabbè, perché quando parlo io, il volume del gioco va sotto, e purtroppo non riesco mai a risentirmi, in cuffia, se sto parlando troppo alto, o troppo basso, però vabbè, in caso ditemi un po' voi, se in caso devo regolare qualcosa, però vabbè, mi piace che quando, che parlo io, il volume del gioco si abbassa, che è una cosa utile, no? perché sennò, poi mi dite nei commenti, e abbassa, alza, allora preferisco così, io in cuffia comunque il sound del, del Fiat, lo sento donatamente alto, però, vabbè, insomma, no problem, come direbbero da qualche parte, ovviamente la rullatura, e tutte ste robe, la fertilizzatura, la facciamo in live su Twitch, anche comunque, sono cose che avete già visto, quindi, vabbè, poi in live su Twitch, farò anche qualche missione, per cercare di accumulare, questo, un po' di soldi, perché meno 11 euro, insomma, non ci viene fuori neanche una pizza, al mcdonald, salutiamo tutti quelli che lavorano al mcdonald, anche al mcdonald, se per caso, mi vuole regalare un panino, non sia mai che gli faccia una recensione, mi dissocio, ok, comunque questo, hanno un poca capacità, però, almeno, è anche per console, è un coso serio per console, eh, credo che sto fiat di Peppe, no? nel caso fatemi sapere voi, ragazzi giù sotto, nei commenti, che siete più esperti di me, perché, io, su chi l'ha fatto, sono un po' imbranato, infatti, Black Eyes, ogni volta che lo, che lo pronuncio male, ci, ci, insomma, mi maledirà, però, vabbè, insomma, vabbè, 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 ok, comunque facciamo abbastanza presto, con questo, trattoriello, però sto notando che ammazza il tempo, il tempo, il tempo vola ragazzi, il tempo, il tempo vola via, cavolo, e mi dispiace perché, non abbiamo sfruttato come si deve questo trattore, ma vorrei finire questo terreno, con voi, magari, faccio, no, non faccio nessun taglio, l'ho già fatto prima, mmm, boh, vabbè, andiamo avanti, finché ce la faccio la mia voce, eh, almeno utilizziamo come si deve questo Fiat, ragazzi, perché è un peccato concludere il gameplay senza averlo utilizzato bene, no? Eh, è veramente un peccato, comunque questo Fiat penso di utilizzarlo, in ogni, ogni serie, perché comunque, so perché, anche se fa un sound che è veramente alto, però, beh, si può anche abbassare da gioco, eh, cioè, non è, un problema, quindi, sono, vabbè, non sono neanche bug, perché alla fine è così, perché so che, Peppe, ha, ha proprio registrato il suono reale, del, del trattore, no? se non erro, se non mi ricordo male, poi, la mia memoria, ragazzi, ci fa brutti scherzi, quindi, hashtag scherzi, ok, facciamoci questa ultima passata, le ultime due passate, poi direi che ci facciamo la rullatura, in un prossimo gameplay, o per l'appunto, in live su Twitch, che dove vi ricordo, sono in live tutti i giorni, tranne il lunedì, e probabilmente anche la domenica, perché la domenica, la vorrei tenere, come giorno di riposo, reale, perché anche, in realtà, quando che, andavo al, a lavorare, avevo il giorno di riposo, di domenica, e anche scuola, non si andava, quindi, vediamo un attimo eh, però poi, magari può essere che faccia anche qualche domenica in live su Twitch, perché adesso, tanti incominciano a scuola, quindi, devo, un po' variare gli orari, insomma, devo un po' variare, ok ragazzi, andiamo a scaricare, e concludiamo, il gameplay, ok, quindi penso di, di farci le olive, raga, almeno proviamo, facciamo le olive, almeno facciamo qualcosa di diverso, dai, così ci facciamo un po' di soldi, ok, andiamo a scaricare, scarica tutto, ok, perfetto, restituisco, il raccogli sassi a noleggio, ok, restituisci, ok, sarebbe bello che ci restituisci anche i soldi, perché l'abbiamo utilizzato poco, però vabbè, alla fine non è un problema, bene, andiamo in farm ragazzi, e concludiamo il gameplay, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su, e noi ci vediamo presto, in un prossimo video, ciao a tutti, ciao ciao! Ciao!